Con le operazioni di partenza ultimate, Frozen Juke è favorito, si aprono le gabbie, partiti i cavalli della quinta corsa, la condizionata sui 1800 metri. Vediamo subito qual è lo schieramento e la disposizione tattica, Kenzo Sim che parte meglio dello stesso San Morkesil che poi in poche battute si prende la testa. In terza posizione troviamo anche Thunderman a precedere America Sprint che ha in coda Frutti Reux, e poi al suo esterno la giubba gialla è quella di Black Horus in penultima posizione, troviamo il favorito Frozen Juke che lascia in coda Gates of Horn. Il primo parziale è stato piuttosto brillante come l'ultima volta San Morkesil tenta la via della fuga ma Kenzo Sim non lo perde di vista, il deputato a fare l'elastico è in terza posizione cioè Thunderman a precedere poi gli altri partecipanti, in particolare America Sprint, Frutti Reux con Frozen Juke in penultima posizione affiancato anche dallo stesso Black Horus con Brothers Cup che chiude in coda. Siamo già a tre quarti della piegata con San Morkesil in vantaggio nei confronti di Kenzo Sim, Thunderman che è in terza posizione, in quarta America Sprint, poi in quinta posizione troviamo Frutti Reux, Frozen Juke che va per corsi più interne, all'esterno invece ci va Black Horus, siamo alle intersezioni della piste di una corsa che ha vissuto di un ritmo veramente intenso, Kenzo Sim rompe gli indugi e passa in vantaggio, assecondato all'esterno da Thunderman, Frozen Juke deve farsi spazio tra lo stesso Thunderman e Frutti Reux, Frozen Juke che prova a dare l'attacco a Thunderman che adesso è passato in vantaggio in una ipotetica e ideale staffetta, Thunderman che è in vantaggio nei confronti di Frozen Juke all'esterno, c'è Frutti Reux all'interno ancora, ci prova Kenzo Sim con Thunderman che sta prendendo il tempo a tutti, Thunderman che sta fuggendo rispetto a Frozen Juke e Frutti Reux, Thunderman che vince la condizionata a Paletti, assoluto dominatore nei confronti di Frutti Reux con al terzo posto Frozen Juke, vince dunque Thunderman che torna su uno standard ottimale, sesta vittoria in carriera per il figlio di Blue Air Force, in sella Tore Sulas per il training di Alduino e Stefano Botti, i colori sono quelli del Giglio Sardo, la quota era di 3,85, vince Thunderman e lo fa in maniera forte, sicuramente con uno stile impeccabile, 9 al primo posto, al secondo Frutti Reux che lascia al terzo un deludente Frozen Juke, 9-5-4, l'ordie d'arrivo ufficioso e numerico probabile, sulla strada verso il premio Presidente della Repubblica, da Capannelle per la quinta corsa, è tutto, apprezziamo di nuovo la ripresa frontale con Thunderman che è andato in percussione, prima su San Morkesil, poi su Kenzo Simma, ma soprattutto si è lanciato verso il traguardo, senza incontrare nessun tipo di opposizione, facile affermazione di Thunderman. Grazie a tutti.